Facciamo People for Planet, una rivista in internet che non solo racconta quello che è successo, ma racconta anche quello che succederà, perché siamo informatissimi, siamo lungimiranti e anche perché il nostro obiettivo è far succedere delle cose a noi. Ad esempio abbiamo presentato tre leggi che potrebbero far risparmiare un sacco di soldi. Una è distribuiamo le medicine sfuse, in farmacia ti danno le pillole che ti servono, come succede da decenni in Germania e negli Stati Uniti d'America, che sono tanto belli e potenti. Prima gli italiani, però facciamo quelli razionali. Soltanto con questo accorgimento per i medicinali si risparmierebbero 2 miliardi di euro all'anno. È uno degli esempi che Jacopo Fo ha illustrato questa mattina a Castel dell'Ovo per presentare People for Planet, la rivista che vuole raccontare cosa succederà domani, offrendo informazioni su cosa si può fare di utile per il pianeta. Un sistema di connessione e cooperazione per far incontrare una moltitudine di persone impegnate in tante forme di cambiamento. Tecnici, scienziati, gruppi solidali, imprenditori ed attivisti in materia di ambiente, che così hanno risalto per i risultati delle loro attività. L'interlocuzione, il legame con Jacopo Fo non è di adesso. Ci siamo visti anche qualche mese fa. Io condivido molto il lavoro che lui fa insieme alla sua squadra, insieme a tante associazioni, insieme ad Alcatraz. Una storia importante di partecipazione attiva, democratica e popolare e culturale di alto livello e che si sposa molto bene con l'esperienza napoletana. Credo che il messaggio forte è quello che i temi ambientali, la difesa del pianeta e dei beni comuni deve coinvolgere tutti. Deve coinvolgere le città che devono stare in prima linea, i territori, i cittadini affinché i governi cambiano, altrimenti i governi non cambiano. Basta vedere decisioni di Trump sull'accordo di Parigi, basta vedere le politiche di bilancio che mettono in campo i governi dell'Unione Europea, compreso il governo nazionale, per comprendere che si va invece nella solita direzione di un iperliberismo. Questo invece è un passaggio importante perché la difesa del pianeta che parte dai territori, quindi una visione più glocal, di una globalizzazione fondata più sulle persone, sui diritti e sui beni comuni e quindi sull'ambiente e non su un finanza, mercati, oligarchie, denari e guerre.